Buongiorno a tutti, io sono Martina Consoli e in Dondal Musical interpreto Elisa. Elisa è una giovanissima mamma che all'interno di Dondal Musical riscoprirà un pochino della sua adolescenza. È un po' matta, molto solare e farà un bellissimo viaggio all'interno dei suoi sentimenti e in quelli delle altre protagoniste di questo spettacolo. Vi aspettiamo a teatro numerosi. Un bacio! Grazie a tutti!